Siamo El Niango, siamo pronti per la partenza. La partenza è verso l'alba. Non devi dormire. Andiamo verso due paesi stranieri, Slovenia e Croazia e chissà dove. La giornata di oggi è che siamo in una zona ben materializzata, a prendere il sole, io ero un po' di raggio, sono senso un moro. Senti strano? Sì, sì, sì. Siamo andando con la zona là. Non so, ti guarda, sei la più tranquilla del mondo. Ah, a posto. Hai visto? Cosa? Dove? No, mi sembra qualcuno dalla finestra, ma niente. Prossima tappa, Rovigno, mio Dio che caldo. La nostra ora è che si prepara alla conquista dei paesi slavi. Alla riconquista. Alla riconquista. Alla riconquista. Alla riconquista. Alla riconquista. Alla riconquista. Lo che voglio magari. Chiara. Grazie a tutti.